Sinceramente quello che possono fare le aziende hanno già dato il massimo perché hanno tutte all'interno dei propri locali il massimo della tecnologia a disposizione. Certamente quando arrivano dei professionisti, perché questi che stanno facendo i colpi nelle nostre aziende sono dei professionisti e sanno come muoversi per ritardare l'arrivo delle forze dell'ordine o mettere fuori posto gli allarmi, te fai tutto ma c'è bisogno delle forze in campo che tutelino, che prevedano, che comunque dissuadano i malfattori a fare il loro lavoro. Così Mario Benvenuto, presidente di CNA Orafi Arezzo, sugli assalti alle aziende Orafi Aretine, l'ultimo in ordine di tempo ad una ditta che lavora argento. Secondo Benvenuto l'obiettivo dei malviventi ormai non è più solo l'oro ma appunto anche l'argento in virtù del balzo in avanti notevole del prezzo dei metalli preziosi. L'oro per il suo costo ha sempre fatto molta gola a questi malviventi e adesso che il costo dell'argento sta salendo è stato di presso di mira per la prima volta un'azienda grossa delle nostre vallate produttrice d'argento. Quindi è questa la differenzazione, Arezzo c'è mille aziende, ecco iniziando a colpire anche le aziende d'argento adesso siamo tutti sotto rischio. Arezzo sostiene ancora Benvenuto non può essere considerata sotto il profilo della dotazione delle forze dell'ordine come qualsiasi altra città. La nostra città lavorando una materia prima così costosa non può essere equiparata a un'altra città che ha lo stesso numero di abitanti. Noi purtroppo siamo una città a carattere molto speciale avendo questo tipo di lavorazione devono avere un occhio di riguardo nell'inviarci del personale che ci difenda. Perché a lavorare quando ero piccolo io volevo fare questo mestiere ci sono riuscito, sono tanti anni che lo faccio ma non pensavo che quando vai a lavorare è a rischio anche la tua azienda, il tuo lavoro. Questo dipende dallo Stato che deve venirci incontro. Grazie. Grazie.